un saluto a tutti voi da france ci ritroviamo nel canale di the sun astrology per affrontare in questa occasione un argomento leggero tranquillo dove andremo a vedere le nature in particolare dei pianeti più altre questioni tratte da un manuale molto piccolo un piccolo manuale che vedremo di quale contesto storico è di un anonimo quindi andremo a curiosare nelle pagine di questo libricino molto interessante su cui possiamo fare qualche ragionamento lo faremo subito dopo la sigla introduttiva quindi vi aspetto tra poco bene partiamo quindi con l'approfondimento che riguarda questo manuale molto breve che si intitola brevi notizie dei pianeti delle sere fisse dell'oroscopo di un anonimo parliamo intanto di un testo di 107 pagine ci sono all'interno di questo libricino una serie di illustrazioni anche astronomiche una serie di di tabelle è un trattato andrebbe più definito come un trattatello con nozioni sui pianeti ci sono anche notizie interessanti sulle stelle fisse sullo zodiaco e anche poi un un ragionamento di questo autore sull'oroscopo e diciamo sull'analisi diciamo così del tema di nascita il libro è di un anonimo la prima edizione del 1786 quindi io sono partito dal contesto storico cioè in che periodo ci troviamo beh ci troviamo in un periodo dove comunque siamo in una fase diciamo legata all'illuminismo siamo anche prossimi ad una fase che è quella del romanticismo che viene subito dopo la fase del dell'illuminismo quindi è comunque un periodo in particolare se ragioniamo sull'illuminismo è un periodo dove in un certo senso c'è il rifiuto un certo una certa forma di critica rispetto ad alcune tradizioni ad alcuni approcci dogmatici ad alcune forme di superstizione cosa che emerge anche in questo trattato in questo manuale dove specialmente nella parte relativa all'oroscopo questo anonimo critica appunto gli approcci astrologici le i metodi anche astrologici facendo delle riflessioni che a loro volta sono però diciamo intrise di superstizione perché come vedremo nella parte finale di questo approfondimento le critiche che poi questo autore muove non sono così diciamo razionali ma basate sui propri convincimenti spirituali e in un certo senso anche religiosi e partiamo però dalla parte che mi interessa più non che non è tanto quella del contesto storico ma vedere come questo anonimo descrive alcune nature dei pianeti per esempio nel paragrafo che è relativo ai pianeti fa l'elenco diciamo canonico dei pianeti cioè parte da saturno segue giove marte sole venere mercurio luna quindi c'è questo ordinamento dei pianeti che ha una sua logica una sua struttura anche rispetto per esempio alla terra qui partiamo da diciamo così il pianeta più distante per arrivare cioè saturno per arrivare fino alla luna che è diciamo il pianeta più vicino a noi ovviamente questi corpi sono chiamati nella nomenclatura astrologica come pianeti anche se ben sappiamo per esempio che la luna non è propriamente un pianeta ma è un satellite del nostro del nostro pianeta terra appunto che il sole non è un pianeta ma che è un luminare è o meglio è una stella appunto fissa nella prima parte questo autore questo anonimo ci parla ci indica ci descrive alcune considerazioni rispetto ai maggi quindi intanto uscita la parola maggio quindi i maggi erano cosa erano appunto i sapienti quindi coloro che comunque avevano conoscenze astrologiche ma in particolare astronomiche che si interessavano anche quindi di queste forme di arte di tutte le eventuali branche connesse a queste a questa forma di sapienza di conoscenza e qui l'autore ci dice che appunto rispetto al suo tempo appunto siamo nella parte finale del 1700 abbiamo una ricchissima letteratura di autori diversi che in tempi appunto lontanissimi da tempi lontanissimi hanno diciamo così lasciato ai posteri una serie di eredità e di letteratura arrivata gran parte ai nostri giorni dove abbiamo una serie di descrizioni per esempio dei pianeti sotto diversi punti di vista è interessante per esempio che questo autore comincia nel descrivere alcune denominazioni dei pianeti che sono diciamo delle denominazioni legate anche a degli attributi legati ai pianeti stessi e ci dice appunto che le descrizioni per esempio dei pianeti riguardano la loro preminenza il loro governo il loro dominio il loro ordine e in qualche modo il pianeta va a stabilire all'interno di una di un linguaggio anche di analogia e di deduzione una serie di richiami di riferimenti a cose connesse alla natura del mondo sub lunare quindi ecco che in ogni pianeta rintracciamo poi delle nature che troviamo anche sulla terra in un certo senso in quel paradigma in quella legge che appartiene alla tavola di smeraldo di ermete trismegisto dove per semplificare all'estremo c'è una connessione tra alto e basso e che questa connessione si traduce anche attraverso la legge della fisica di una fisica celeste ma anche di una fisica terrestre quindi di quella che possiamo andare a definire con un termine che possa in qualche modo comprendere tutto che è la parola natura natura celeste natura terrestre quindi ogni cosa ha un suo collegamento con l'alto e con il basso certe cose che avvengono come fenomeni diciamo nel cielo hanno delle loro corrispondenze diciamo così con certi fenomeni legati più alla nostra terra al nostro al cosiddetto mondo sub lunare che risponde anche a delle proprie leggi naturali e quindi c'è questa correlazione che questo anonimo sottolinea legata proprio al concetto di natura e quindi abbiamo una serie di analogie di influenze di dignità rispetto diciamo a tutti quei fenomeni che la mente umana nella sua singolarità o nella collettività può osservare no attraverso appunto la sua mente quindi ogni fenomeno è diciamo associabile ogni fenomeno naturale è associabile diciamo a delle dinamiche anche a delle qualità celeste ecco che i pianeti per esempio possono avere anche delle nature che rimandano per esempio a delle condizioni atmosferiche a delle nature legate che ne so alle temperature al tipo di clima al tipo di diciamo di atmosfera di percezione anche naturale e questa è una premessa interessante no perché i pianeti dice questo autore sono stati associati anche agli umori ai sensi alle facoltà agli animali agli oggetti alle pietre troviamo infatti tra non molto un lungo elenco che vi andrò a leggere vi ho riportato diciamo le attribuzioni per me più interessanti dove questo autore questo anonimo non ci dice niente di nuovo perché è un qualche cosa che appunto come egli stesso dice è presente in tutta la letteratura astrologica cioè l'idea di mettere in correlazione no alcune nature planetarie o celesti o alcuni fenomeni astronomici a dei fatti poi naturali che percepiamo dalla terra o a cose anche legate alla natura della terra degli ambienti che tutti noi frequentiamo ecco che in un certo senso quello che io penso è che la natura per esempio legata alla natura del mondo sublunare ci si riferisce non solo al clima all'atmosfera ma anche alla natura propria delle cose quindi alla natura cioè ai comportamenti per esempio di certi animali di certe piante ai comportamenti anche del nostro corpo alle sue caratteristiche alle sue qualità alle sue temperature qui ci parla anche di umori che quindi ci rimanda anche no al concetto di di temperamento diciamo individuale ecco tutto ciò che comunque è connesso a un fenomeno naturale ha una sua corrispondenza a una serie di dinamiche celesti che quindi hanno in virtù di essere appunto dinamiche celesti delle leggi proprie che sono leggi di matematica di matematica celeste di fisica celeste e che a loro volta poi portano diciamo l'astrologo a diciamo a interpretare certe certe dinamiche astronomiche che quindi sono matematiche fisiche in un linguaggio diciamo di deduzione in un linguaggio passatemi il termine filosofico è anche simbolico quindi ecco che l'astrologia se ci pensiamo va a racchiudere tutto tutta tutta la conoscenza umana tutte le conoscenze in un certo senso vengono fatte confluire in quella che chiamiamo astrologia cioè nell'astrologia troviamo non solo l'astronomia ma anche le scienze naturali la biologia la medicina lo studio proprio delle cose appunto naturali quindi l'astrologia è in un certo senso una una summa di diverse discipline di diverse conoscenze dove attraverso ovviamente una serie di metodi di approcci noi possiamo diciamo così leggere il fenomeno celeste messo in correlazione anche al fenomeno terrestre e ricavare da queste letture diciamo così una serie di deduzioni e perché no anche di previsioni o di interpretazioni c'è poi subito dopo questa parte l'autore questo anonimo prima di parlare delle nature ci parla di alcuni nomi che sono attribuiti ai sette pianeti che rimandano diciamo agli dèi questa cosa la troviamo qui siamo in un testo di fine 1700 anche per esempio in agrippa nel suo filosofia occulta inserisce per ogni pianeta una serie di diciamo di parole di nomi anche di divinità che vengono associate a dei pianeti ai pianeti ora qui io non sono in grado di dirvi l'origine dei pianeti quale è esattamente però constato esclusivamente il fatto che c'è questa attribuzione che poi potrebbe anche essere una attribuzione che viene come dire in modo naturale se andiamo diciamo alla ad una astrologia molto più arcaica diciamo se andiamo alle prime forme di di astrologia anche nell'area mesopotamica i pianeti erano chiamati anche con altri nomi di altre divinità rispetto a questi nomi che oggi usiamo anche nella astrologia contemporanea in questo caso però l'autore come se vuole dire che a questi pianeti sono stati attribuiti anche delle virtù diciamo così di divine o comunque spirituali non so come definirle che vanno a rappresentare non tanto la divinità in sé quindi il pianeta non intende rappresentare la divinità in sé ma intende rappresentare un'entità ecco è il concetto per esempio di cosmo creatore che c'è dietro ogni pianeta ne parlano anche molti astrologi antichi ho fatto anche un approfondimento sul mio canale proprio sul per esempio il calcolo o lo studio del demone peculiare dove si evoca il concetto di cosmo creatore e quindi di questa entità che è diciamo dietro o dentro il pianeta che in qualche modo è collegata questa entità a una manifestazione ad una intelligenza chiamiamola così divina in un certo senso se vogliamo vedere il fenomeno celeste sì con la sua meccanica con la sua fisica ma anche con un occhio spirituale potremmo dire che comunque la logica di questa meccanica la sua perfezione può essere in qualche modo legata o messa in analogia alla idea di una presenza di una intelligenza diciamo divina che muove tutto che muove ogni cosa che ordina ogni cosa quindi le cose sono così perfette i moti diciamo del cielo sono così per perfetti talmente perfetti io sono stati in grado di generare anche una vita così complessa sul nostro pianeta che non può che essere diciamo che non può che esserci dietro tale perfezione un'intelligenza in qualche modo divina che potremmo vedere anche attraverso diciamo le le entità gli enti divini presenti in ogni pianeta in un certo senso in ogni pianeta potremmo in qualche modo vederci in una in una osservazione diciamo così più spirituale un'entità divina che tuttavia rimanda ad una sola intelligenza che tutto muove che tutto ordina dove tutto è scandito quindi in un certo senso anche la meccanica celeste la fisica le leggi matematiche hanno diciamo una intelligenza divina non sono il frutto di una casualità ecco allora ecco che questo autore dice elenca una infinità di nomi per ogni pianeta io vi ho portato quelli più diciamo che almeno a me hanno più colpito per esempio per saturno associa il concetto di padre degli dei e signore del tempo per giove associa il concetto di padre gioviale re dei cieli magnanimo per marte associa il concetto di potente in guerra e porta spade per il sole lo chiama lucifero ardente e vivificatore per venere associa i concetti di signora avvenente e signora dell'amore per mercurio associa i concetti di notaio del sole associa anche qui la parola lucifero e sapiente per la luna associa la parola nottiluca e signora di tutti gli elementi cioè signora in qualche modo guardiana della notte e di tutti gli elementi ci sono poi in questo manuale di questo anonimo una serie di attribuzioni molto interessanti che ora vi andrò a leggere per esempio ho trascritto quella di saturno dove questo anonimo dice che saturno era rappresentato quando in ascensione nella sua ora per lo più su una pietra di calamita o di zaffiro con l'immagine di un uomo il cui volto assomiglia a quello di un cervo con i piedi di cavallo e che siede sopra una cattedra o sopra un drago tenendo nella destra della mano una falce e nella sinistra una saetta oppure con l'immagine di un vecchio seduto sopra un'alta cattedra con le mani elevate sopra il capo tenendo in esse un pesce o una falce col capo coperto di panno color nero o fosco vesti nere questa immagine per lo più si incideva su anelli medaglie che si pensava potessero promuovere la longevità questa è la descrizione ripeto che fa questo anonimo non la faccio io rispetto a saturno dico la fa questo anonimo perché per esempio ho trovato delle divergenze in altre in altri testi per quanto riguarda l'associazione delle pietre qui viene associata la calamita cioè la magnetite viene associata a saturno ho trovato invece altre corrispondenze per la calamita però insomma questa è l'attribuzione io vi riporto quello che è presente in questo testo intanto che cos'è questa descrizione qui sempre prima di arrivare alla natura diciamo fisica e astronomica dei pianeti l'autore propone appunto quello che possiamo chiamare una analogia che nel tempo è stata anche diciamo usata per scopi di pratiche magiche di pratiche spirituali o comunque magiche cioè una serie di tecniche che avevano lo scopo di imprimere per esempio su una pietra che ne so l'immagine di un pianeta lo si faceva in dei momenti particolari cioè nell'ora di quel pianeta e nel momento in cui quel pianeta risultava forte nella carta di elezione dovevano poi esserci certi aspetti dell'est della luna e comunque avere una serie di condizioni diciamo favorevoli per l'incisione della immagine in questo caso per esempio associata a saturno questa descrizione di questo anonimo ci fa capire che appunto la natura delle cose veniva in qualche modo anche plasmata negli oggetti o in qualche modo realizzata in una serie di strumenti che possiamo chiamare talismani che potremmo definire come dei catalizzatori cioè erano erano concepiti come degli oggetti che avevano la proprietà di catalizzare o di amplificare certe nature certe virtù proprie di alcuni pianeti per favorire poi nel possessore di questo oggetto poteva essere un anello una pietra da mettere in tasca o un ciondolo da appendere al collo aveva questo oggetto lo scopo di elargire diciamo così alla persona una serie di nature una serie di virtù proprie di quelle pianeta qui entreremmo nel discorso dell'arte elettiva dell'arte talismanica dove ovviamente l'argomento è molto ampio e richiederebbe un ragionamento articolato quindi qui io vi porto qualche accenno giusto qualche curiosità però in questo caso la testimonianza che questo autore ci vuole dare è che appunto la natura del pianeta era vissuta comunque anche con questa forma di arte cioè con l'idea appunto che le immagini plasmate sugli oggetti che si riconducono che si ricollegano meglio a un certo pianeta queste immagini avevano proprietà avevano la capacità di elargire le virtù di quel pianeta è in un certo senso quello che oggi avviene con i cosiddetti simboli anche oggi le neuroscienze insegnano che certi simboli certi colori certe forme rievocano in noi delle diciamo così delle influenze i simboli hanno un'influenza veicolano influenze sottili non sempre razionalizzabili ma che si muovono diciamo in modo sottile quindi in un certo senso non è così diverso il tempo che viviamo rispetto anche al nostro passato ai nostri diciamo antenati no quindi ancora oggi si usa molto anche se spesso viene vissuto come una sorta di superstizione comprare un oggetto o un ciondolo che richiama un certo simbolo che ci ispira un qualche cosa o di fortunato o di protettivo ecco questo comunque appartiene secondo me sempre allo stesso mood alla diciamo ad una stessa nicchia anche se sicuramente in questo caso la descrizione che viene fatta è rispetto ad un talismano non tanto ad un oggettino così o ad un amuleto cioè ad un oggetto che veniva creato anche nel rispetto di alcune disposizioni celesti continuo a leggervi quello che questo autore ci propone mettendo in grande perché vedo in piccolo ecco qua vedo troppo piccolo anzi come faccio per togliermi non si può fare vabbè allora vediamo cosa dice di giove la giove veniva intanto raffigurato cioè veniva incisa la sua immagine nella sua ascensione vuol dire cosa in questo caso si intende quando sorge all'orizzonte spesso però venivano incise le immagini dei pianeti anche nella loro fase diciamo culminante diciamo nella casa dieci e qui dice per giove che veniva incisa insomma una immagine su una pietra bianca l'immagine era quella è quella di un uomo coronato quindi che ha una corona vestito di giallo con una veste gialla che cavalca un'aquila o un dragone tiene nella mano destra una saetta che è nel nell'atto nella gestualità di lanciarla nel capo dell'aquila o del dragone figuravasi altresì giove nel cristallo cioè venivano fatte delle immagini anche sul cristallo può essere che si riferisca al cristallo di rocca non so o su un forse un quarzo o altra pietra trasparente con immagine di un uomo in questo caso nudo con una corona con una corona con le mani diciamo elevate e congiunte in atteggiamento di pregare sedente sopra una cattedra a quattro piedi sostenuta e portata da quattro putti alati quindi da quattro insomma creature alate considerate erano queste immagini utili per aumentare la felicità le ricchezze l'onore come anche a conferire la prosperità la benevolenza e la liberazione dai nemici per marte che cosa scrive per marte scrive che veniva eseguita veniva incisa l'immagine di marte alla sua ascensione in seconda faccia dell'arriete probabilmente nel secondo volto della dell'arriete cioè in questo caso può essere che ci indichi proprio che l'immagine veniva fatta con marte in arriete nel suo secondo volto e qui ci richiama al fatto ecco proprio che nell'arte talismanica quando vogliamo imprimere diciamo così delle virtù su una pietra di un dato pianeta quel pianeta doveva prima di tutto avere delle qualità diciamo di essenzialità quindi essere almeno nella suo domicilio o comunque nella sua esaltazione quindi avere comunque una dignità essenziale importante in questo caso qui l'autore lo specifica proprio parlando di marte in ariete e rievoca il secondo volto del segno ariete si fa sempre nell'ora di marte in lapidi qui dice lapidi marziali non so che cosa voglia dire cioè in piedre di marte in cioè in generale nelle pietre notoriamente connesse a marte e quindi pietre che potevano essere di diamante con l'immagine di un uomo armato cavalcando mentre cavalca un leone tiene nella destra nella mano destra una spada nuda innalzata nella sinistra una testa d'uomo figurava sì altre sì cioè si andava a rappresentare anche marte appunto nella propria ora nella sua ascensione nella prima faccia cioè nel primo volto dello scorpione in questo caso ci rievoca l'altro domicilio di marte che lo scorpione allora quando marte è in scorpione nel primo volto è in ascensione dice che si andava ad incidere un soldato armato e coronato cinto i fianchi di spada che tiene nella destra una nella destra nella mano destra una lunga lancia considerate che queste immagini erano utile per fare l'uomo potente e rispettabile per conferire coraggio fortuna nei conflitti e nelle guerre e per esempio in queste ora tre descrizioni di queste tre immagini connesse a saturno giove e marte in pratica su questa pietra o su quello che era sul metallo anche poteva essere poteva venire inciso anche sul metallo proprio del pianeta erano incise delle immagini che rievocano il pianeta di cui vogliamo fare appunto un talismano in un momento in cui il pianeta è in una bella dignità essenziale in un momento in cui è in ascensione poi ovviamente nelle regole elettive ci sono tante altre cose da tenere in considerazione in quel momento in un certo senso si credeva e si crede perché ancora oggi queste cose vengono fatte da molti che la natura di quel pianeta è in quel momento molto forte noi possiamo quella virtù quella natura racchiuderla concentrarla o attirarla preferisco di più il termine attirarla nell'oggetto che sto incidendo in quel momento preciso esatto ecco che io andrò in un certo senso a creare un catalizzatore per esempio di marte che potrei utilizzare se sono un soldato se sono un capitano di guerra per le mie strategie bellicose o belliche per promuovere diciamo sì o propiziare meglio la vittoria per esempio nel campo di battaglia o per rendermi più audace più forte più coraggioso rispetto per esempio ad un combattimento ad un duello che mi dovrò in qualche modo cimentare no a a vivere a svolgere perché no se sono un pugile se sono un un pugile devo fare un incontro di pugilato potrei in qualche modo propiziare la mia attività fisica perché no con un talismano di marte che in qualche modo vada a amplificare la mia forza la mia reattività la mia reattività fisica ecco questo è per farvi capire come erano usati questi appunto oggetti andiamo avanti per le immagini quindi ora leggiamo le altre immagini degli altri pianeti per esempio per il sole figurava sì nella sua felice ascensione nella propria faccia del leone quindi il sole nel leone nel suo volto nell'ora del sole su una pietra di rubino un'immagine di un re coronato sedente sopra una cattedra tenendo in seno un corvo e sotto i piedi un globo ammantato di gialla veste figurava sì altresì il sole in un diamante nell'ora nell'ascensione suddetta con l'immagine in questo caso di una donna coronata in atteggiamento di saltare e di saltare di ridere sopra un carro tirato da quattro cavalli portando con la mano destra uno specchio o uno scudo e nella sinistra un bastone appoggiato sopra il petto con una fiamma posta sul capo al tempo dei romani rappresentavasi il sole in qualche pietra delle anzidette cioè di quelle già dette con la figura di un giovine col capo radiante cioè con la testa a forma di in pratica sole con in mano una cornucopia di abbondanza simbolo di fecondità propria del sole tirato da quattro cavalli che poeti nomavano cioè chiamavano piroeo eto etone e flegone se leggo bene consideravano queste immagini giovevoli a far l'uomo cioè capaci di propiziare di fare l'uomo onorato e possente a condurre le cose principate a buon termine cioè da far da per ottenere insomma dei buoni risultati a scacciare i sogni i vani sogni a liberare dalla febbre e dalla peste io trovo molto interessante perché vi riporto queste immagini di questo manualetto trattatello di un anonimo perché sono immagini particolari che io non ho trovato in altri manuali cioè per alcune cose sì ho trovato delle concordanze con altri libri anche con altri manuali trattati anche precedenti a questo che vi ripeto è di fine 1700 ma ci sono alcune immagini specifiche che non ho trovato assolutamente in altri manuali quindi l'ho trovato particolare per queste immagini che per alcune per alcuni pianeti appunto ho trovato come in un certo senso inedite cioè nuove o in qualche modo che almeno io nella mia insomma ignoranza non ho letto in altri manuali anche precedenti questo per venere figuravasi nella sua ora propria e nella sua esaltazione che nei pesci in pietra lazuli io ritengo che ho provato a cercare su vari dizionari potremmo qui riferirci ai lapis lazuli con immagine conveniente alla graziosità la benevolenza cioè di una donna col capo di uccello piedi di aquila tenendo una saetta in mano figuravasi altresì questo pianeta a fine di conciliare l'amore del sesso muliebre cioè del sesso diciamo tra con la propria moglie a fine di conciliare appunto l'amore diciamo nel matrimonio diciamo in questo modo nell'ora propria con l'ascendente in toro con l'immagine di una nuda di una giovane donna nuda con i capelli sparsi tenendo uno specchio in mano con una catena appesa al collo accanto un putto avvenente che con la mano sinistra tenea cioè tiene la giovine per la catena e con la destra acconciava i capelli e con la destra acconciava i capelli e in prospetto collocavasi un piccolo fanciullo alato con una saetta in mano vi chiedo scusa ma insomma non è un italiano corrente quindi faccio a volte un po fatica a leggerlo e ora nel segno sia e ora nel segno sia del toro che dei pesci o della libra con l'immagine di una giovane con i capelli lunghi sparsi vestita di bianche vesti portando con la mano destra un pomo e all'oro con o dei fiori con la sinistra un pettine e consideravano che questa figura giovevole faceva cioè beneficiava promuoveva diciamo così l'uomo faceva l'uomo placido giocondo robusto e di bellezza dotato anche le immagini di venere le ho trovate molto interessanti quella più diciamo canonica che conoscevo era quella di una bella fanciulla con in mano un pettine uno specchio e un po e una mela qui abbiamo anche altri tipi di immagini molto interessanti mercurio allora mercurio figuravasi nella sua ora propria in ascensione in gemelli quindi in un suo domicilio con l'immagine di un bel giovane barbuto con la barba tenendo nella sinistra mano un caducio quindi proprio lo strumento tipico di mercurio cioè una verga a cui era torcigliato un serpente dice una serpe un serpe e nella destra una saetta e con i piedi alate una tal figura consideravasi utile per fare l'uomo scientifico facondo cioè facoltoso no e ha curato nei negozi nei guadagni nella conciliare nel conciliare la pace nella concordia figuravasi anche mercurio nella sua ora in a con un ascendente vergine a fine di ottenere benevolenza ingegno memoria con l'immagine di un uomo sedente sopra una cattedra o cavalcante un pavone con i piedi d'aquila o è una cresta in capo tenendo nella sinistra mano un gallo o un fuoco anche questo trovo molto interessante specialmente queste immagini di mercurio con un con la cresta sul capo e con in mano un gallo quindi viene insomma riprodotto un'immagine molto interessante che anche in questo caso l'ho trovata almeno io inedita luna per quanto riguarda la luna figuravasi questo pianeta pensandosi di gio di giovare ai ai viaggetori e minorare cioè diminuire la loro stanchezza nell'ora propria del suo ascendente segno proprio con l'immagine di un uomo appoggiato ad un bastone con un uccello posto sulla testa e avanti collocato un fiorito albero alla figura si faceva altra figura si faceva della luna a fine come davansi a credere di cioè per con la finalità di aumentare l'umana propagazione scacciare i veleni contro le infermità dei fanciulli questa figura si faceva nell'ascensione ascendente allora devo leggere nell'ascendente in prima faccia del cancro si quindi questa figura veniva fatto con un ascendente nel primo volto della del cancro e nella propria ora cioè nell'ora della luna con l'immagine di una donna cornuta cavalcante un toro o un dragone con sette teste oppure con l'immagine di un di un cancro tenendo nella destra nella mano una saetta nella sinistra uno specchio sia di bianco di verdi vesti con due serpenti in testa alle corna attorcigliati quindi questi serpenti attorcigliati su sulle corna di questa figura e altri due serpenti uno per braccio attorcigliati con altri due serpenti similmente a piedi attorcigliati questa cosa io l'ho trovata molto eccitante questa immagine che viene descritta della luna praticamente una fanciulla in dove tutto il corpo ha serpenti attorcigliati alle braccia alle corna alle gambe quindi c'è ai piedi c'è questa immagine molto particolare ripeto della luna che almeno io ripeto non ho mai incontrato in altri manuali precedenti che parlano di queste immagini legate ai pianeti e proseguiamo sempre con diciamo le analogie qui per esempio ve ne ho messe altre per quanto riguarda le parti del cielo qui l'autore non fa altro che posizionare per ogni pianeta i segni del loro domicilio quindi non ve li elenco saturno capricorno acquario giove sagittario pesci eccetera eccetera per gli elementi qui ho trovato una cosa molto interessante questo autore associa a saturno l'elemento terra a giove l'aria il fuoco a marte il fuoco ho trovato interessante l'associazione al sole che lo associa ok al fuoco ma al concetto anche di atmosfera l'ho trovato molto bella come come analogia come attribuzione poi a venere l'aria a mercurio la terra e alla luna l'acqua per i colori ve li elenco brevemente a saturno il nero e il fosco per giove il ceruleo a marte il rosso il sole il giallo venere il verde mercurio il bigio che significa grigio una diciamo sfumature diverse luna il bianco per gli odori a saturno è stato dato il fetido e il narcotico a giove il suave a marte l'acre al sole l'aromatico a venere il suave rallegrante viene specificato proprio in questo modo mercurio il misto e la luna insensibile per la luna insensibile vuol dire un odore che non percepiamo appunto trovo interessante il fatto che i due benefici giove e venere sono associati ad odori appunto suavi mentre i due malefici a todò a odori un po pungenti un po fastidiosi quindi saturno il fetido e addirittura il narcotico e a marte l'acre sapori anche qui abbiamo per saturno acerbo giove suave marte amaro sole salso che vuol dire salato sapido venere dolce mercurio acido e anche qui per la luna viene dato l'insipido per le stagioni a saturno viene dato viene associato l'autunno a giove la primavera a marte l'estate al sole l'estate a venere la primavera a mercurio l'autunno e alla luna l'inverno effetti generali anche qui abbiamo delle indicazioni interessanti per gli effetti generali a saturno vengono date le nubi dense nere livide nembi nevi brine venti procellosi freddo eccessivo e pestilenziale per giove la calma di tempo venti moderati e salubri serenità nubi bianco bianco rossigine quindi delle nubi vedete nubi bianco rossigene bianco che tendono anche un po al rosso marte gli viene data una infinità di cose in temperia in temperie calda secca focosa pestifera se ma anche serenità nubi rosse bionde verdi tuoni baleni folgori fulmini tempeste comete caudate impressioni focose turbini venti tempestosi maligni e mortali al sole il calore la siccità la solubrità cose che soffocano nubi giallicce rosseggianti venti moderati secchi salubri a venere la una temperatura salubre serenità rugiada nebbia nubi bianchicce pioggia tenue salubre venti moderati per mercurio siccità venti repentini impetuosi misti instabili procellosi sterminatori nubi vigetuoni baleni e fulmini luna umidità e freddezza quindi qui vengono anche qui associate delle nature come vedete in questo caso potremmo quasi dire nature atmosferiche anche climatiche per esempio la mattina che ci svegliamo troviamo un banco di nebbia nel nostro quartiere quella nebbia la potremmo tradurre come un evento che ha la natura di venere e può essere che c'è qualche diciamo fenomeno celeste nel plenilunio nel novilunio precedente che poteva darci no l'idea di una venere che ne so forte o con qualche debilità insomma nel bene o nel male che potesse appunto darci che poteva forse darci una indicazione per diciamo la formazione dei banchi di nebbia in una data area in un dato luogo trovo interessante che a marte vengono specificatamente associate anche le comete solitamente le comete sono associate a mercurio ma anche sicuramente a marte altre analogie che vi è che questo anonimo da sono sugli effetti alla sulla terra alla per saturno serenità di frutta detrimento delle piante utili o per il gran freddo o per gelate nebbi locuste generazione di insetti dannosi morte degli animali utili e il terremoto per giove sanità copio copia di frutticazione delle piante cioè abbiamo molta fruttificazione molti frutti generazione di molti frutti di animali utili sterminio degli insetti nocivi marte penuria danno alle piante ai frutti agli animali utili produzione di tarli e di insetti corrosivi a causa delle intemperie calda e secca produzione benefica incendi e terremoto anche qui per marte sole vegetazione delle piante seminati il resto a ragione di domicilio di aspetti con gli altri pianeti in questo caso può essere anche logico perché il segno del sole ci rievoca un periodo stagionale e quindi in ogni stagione il sole ha delle caratteristiche anche fisiche sulla nostra per via della relazione con la nostra terra e per effetto anche dell'atmosfera della terra abbiamo poi degli eventi naturali sono legati anche alle stagioni che quindi producono una serie di reazioni diciamo così anche nel ciclo delle piante degli alberi delle cose viventi che abbiamo attorno a noi venere salubrità fecondazione fruttificazione mercurio anche viene associato insieme a marte e saturno ai grandi terremoti il resto dice l'autore in ragione di aspetto con marte e saturno luna putrefazione nel resto in ragione anche degli altri aspetti che formerà con appunto gli altri pianeti effetti sulle acque saturno significa le inondazioni corruzione morte dei pesci burrasche naufragi giove sufficienza di acqua abbondanza di pesci navigazione felice marte disseccazione delle acque putrefazione morte dei pesci burrasche il sole decremento delle acque venere umidità congrua molti pesci felici navigazioni mercurio improvvise burrasche luna flusso e riflusso del mare minerali e pietre qui ve ne dico giusto alcune per saturno piombo zaffiro giove stagno zaffiro amatisto vedeci amatista ci sono anche delle pietre che vengono ripetute marte ferro anche qui viene per esempio indicata la calamita per marte di aspro rosso rubino solo il sole oro qui viene citato specificatamente il metallo oro rubino topazio venere il rame smeraldo mercurio l'argento vivo il vetro viene dato a mercurio in questa da questo anonimo luna argento cristallo diamante selenite per le piante anche qui ve ne cito alcune per saturno rovere ruta oppio giove il sandalo zucchero balsamo marte pepe canapa rafano sole palma alloro cedro cannella anche per il sole che a me piace molto venere oliva mirto valeriana mercurio pimpinella maggiorana ogni pianta di poca crescita di foglie tenue o quelle che hanno colori variegati la luna zucca cucomero agno casto la tuga se ne se ne lo troppio che non so che cos'è probabilmente un tipo di forse pietra e gira luna viene dato anche questa questo nome gira luna che non so dirvi che pianta è perché questo nome sia gira luna che se ne lo troppio l'autore lo associa diciamo alla voce piante però non so dirvi esattamente cioè non saprei che che piante sono non non ho avuto insomma il tempo per fare delle ricerche poi ci sono altre attribuzioni moltissime altre io vi ho riportato ora in questo istante le attribuzioni legate agli uomini nelle cioè alla persona al cor agli esseri diciamo umani con diciamo le parti del del corpo quindi abbiamo per saturno la fronte l'orecchia destra il petto per giove il cervello le cosce il fegato marte il sangue l'orecchia sinistra il sole l'occhio destro la luna l'occhio sinistro e via dicendo poi poter poi ritrovate queste queste slide nella descrizione a questo video trovate un link che vi rimanda in accademia e per chi vuole in accademia.edu per chi vuole può scaricarsi queste slide dove trovate anche poi il link del manuale intero di questo trattato perché è liberamente consultabile ho invece inserito e trovo più interessante da leggere le caratteristiche delle persone legate ai pianeti lo trovo interessante questo passaggio per quale motivo perché in questo caso le persone non sono definite attraverso i segni cioè quelli nati sotto il segno dei gemelli sono così quelli nati sotto il segno del che ne so capricorno sono fatti in quest'altro modo no c'è una descrizione legata al pianeta quindi è una cosa che viene da tutta la letteratura astrologica antica il segno è raro anzi non si incontra mai che descrive specificatamente una persona quindi la persona per esempio attraverso lo studio del proprio tema di nascita viene descritto attraverso lo studio per esempio dei dei pianeti per esempio per le inclinazioni psicologiche studiamo che ne so la luna mercurio quindi da le caratteristiche della luna mercurio da una serie di studi che partono dalla luna mercurio comprendiamo la natura per esempio dell'animo e della mente per sapere le opere o la predisposizione lavorativa allora mi studio per esempio marte mercurio venere marte i pianeti eventualmente in decima e quindi vado a cercare per la natura delle mie opere un pianeta non tanto un segno un pianeta che mi rappresenta le mie opere questo è un paradigma molto interessante molto diverso rispetto per esempio all'astrologia moderna che insomma ci fa capire la netta differenza anche tra certi approcci diciamo così astrologici in questo caso la descrizione viene legata alla complessione temperamentale quindi potrei potrei ipotizzare che queste indicazioni potrebbero diciamo essere legate al temperamento che prevede un calcolo un certo calcolo quindi si può fare sul nostro tema di nascita un calcolo ci sono diversi metodi per calcolare il cosiddetto temperamento prevalente oppure lo ritengo un po più possibile all'interno del calcolo del temperamento si cerca di capire qual è il pianeta più forte attraverso una serie di osservazioni rispetto diciamo ai punti più importanti per lo studio del temperamento che può essere non so una sorta di almuten da eleggere su punti diciamo importanti per il temperamento che ne so l'ascendente il governatore dell'ascendente il segno della luna potremmo fare qualche qualche studio anche sulla sulla fase anche lunare o meglio anche sugli aspetti che la luna forma specialmente quelli applicativi per lo studio anche del temperamento poi che ne so si può osservare anche dare uno sguardo anche al signore della genitura ecco questi punti perché no potrebbero darci un almuten cioè un pianeta che regna che diciamo ha dominio sui punti diciamo sui significatori chiamiamoli così del temperamento e mettiamo il caso che appunto sia questo pianeta che il temperamento stesso mi va a dare mi può dare delle indicazioni ecco che se nella mia nascita emerge una forte natura mettiamo caso saturnina confermata anche da un temperamento prevalente melanconico allora potrei prendere questa didascalia che da questo anonimo come una descrizione ovviamente generale di una certa predisposizione di alcune caratteristiche di alcune mie qualità ecco che la persona saturnina ci dice questo questo anonimo ha un temperamento bilioso appunto melanconico ha il corpo è di grossa ossatura è peloso è macilente sguardo a terra capelli neri crespi cute e barba aspra di colore bruno vene sottili e apparenti occhi piccoli ciglia unite mento spazioso grosse labbra e passo grave se diciamo ho una natura più gioviale allora la complessione temperata una bella statura e proporzione del corpo colore bianco alquanto rosseggiante occhi grandi con la pupilla nera è spaziosa naso grande mascelle larghe un po alla rigge di beautiful denti anteriori grossi folti barba crespa vene grandi capelli del colore della velana matura natiche carnose spalle larghe insomma un bel tipo sanguigno marziale temperamento una persona marziale ha un temperamento colerico collerico e biglioso faccia rotonda capelliatura crespa occhi sulla pupilla alquanto gialliccia colore del volto tra il rosso e il giallo aspetto minaccevole veloce di passo e ardito persona solare temperamento sanguigno colore tra il giallo e il fosco alquanto rosseggiante corta statura aspetto avvenente fronte rotonda ciglia sottili calvo di peli sul corpo calvo di peli sul corpo cioè glabro occhi bianchicci alquanto gialli nella pupilla naso retto e mediocre bocca mediocre collo sotto un suo sottondo collo forse corto sottondo non so che cosa voglia significare venere c'è una persona venerea anzi temperamento sanguigno avvenenza di corpo carni morbide color bianco rosso faccia feminea e rotonda naso aquilino capigliatura bionda occhi neri nella pupilla mercuriale un temperamento flemmatico colore tra il bianco e il fosco faccia oblunga fronte levate stretta occhi avvenenti nella pupilla alquanto neri ciglia lunghe barbara rara naso stretto alquanto lungo labbra grossa grosse denti lunghi dita delle mani lunghe un tipo lunare temperamento flemmatico color bianco e anche pallido pingue corporatura faccia rotonda soventi freggiata di qualche neo occhi modessi ciglia alquanto unite fronte larga barba lunga vene piccole spalle grosse unghie bianche tenere bocca picciò piccola denti ben ordinati e naso scarso queste sono le descrizioni sia del corpo che del temperamento ovviamente insomma sono descrizioni molto didascaliche molto generali così tanto per avere lì un'idea non tanto su una definizione per il nostro tema di nascita quanto proprio anche sulla natura dei pianeti su quello che intendono descrivere l'autore poi comincia con una classificazione questo anonimo dei pianeti maschili e femminili saturno maschile giove maschile marte maschile sole maschile venere femminile mercurio neutro luna femminile pianeti benefici e malefici saturno ovviamente malefico giove benefico marte malefico sole indifferente venere benefico mercurio indifferente luna indifferente abbiamo poi temperamenti dei pianeti che vengono associati dal da questo anonimo saturno viene detto a freddo alquanto secco giove caldo e umido marte caldo e secco sole caldo alquanto secco venere umido e alquanto caldo interessante questa attribuzione mercurio secco e umido luna umida e alquanto freddo interessante perché c'è una viene data una forte umidità a mercurio viene data una forte umidità è una forte se un un forte calore a venere è interessante perché non è diciamo congruente con gran parte se non tutta la letteratura astrologica però è questo è quello che viene riportata per esempio di venere sempre immaginata fredda con una grande quantità di umidità invece qui viene associato anche il concetto di caldo a venere andiamo avanti queste sono le attribuzioni di questo anonimo pianeti distinti per i suoi colori qui in un certo senso ve li ho già dati poi c'è un elenco di quadrati magici che in un certo senso rievocano sempre le nature dei pianeti che questi quadrati li incontriamo anche nel testo di agrippa quindi anche qui i quadrati cioè sono una serie di numeri che secondo una certa tradizione rievocano nature dei pianeti quindi per chi non volesse diciamo così fare il talismano di giove con l'immagine di giove potrebbe realizzare il quadrato di un pianeta quadrato magico sempre per esempio al sorgere di giove quando giove è in una su nel suo segno nel suo domicilio nella sua esaltazione messo bene e con altre disposizioni legate all'arte elettiva quindi viene in un certo sostituita l'immagine con in questo caso una serie di numeri che rievocano la natura di quel pianeta ovviamente è diverso dall'arte del talismano vera e propria qui già parliamo di un qualche cosa che già va oltre diciamo l'arte talismanica entriamo anche un po in altre forme diciamo di magia celeste e qui finisce il capoprimo poi vi è un successivo capitolo che più che è legato alle stelle fisse che io salto perché è molto complesso ci parla di una serie di significati rispetto alle alle stelle c'è un elenco di significati anche delle stelle è molto interessante anche il capo 2 che sicuramente potrete poi trovare nel libricino che di questo anonimo vi metterò proprio nella nell'ultima slide il link per accedere a questo trattato a questo breve manuale c'è anche una descrizione più astronomica dei pianeti che ho saltato perché in quella di quella descrizione un po più astronomica che per carità sarebbe anche quella interessante ma all'approfondimento come sapete insomma non possiamo andare oltre un'ora e mezza quindi abbiamo ancora poco tempo per la descrizione di questo trattato e quindi lo ritrovate sempre nel manuale nella descrizione astronomica dei pianeti trovate che cosa intanto le descrizioni delle orbite i giorni i tempi insomma una serie di informazioni più fisiche chiamiamole in questo modo ovviamente nelle informazioni che c'erano a fine 1700 e quindi c'è quella parte poi astronomica io vi ho portato quella un po più curiosa che è legata alle analogie che come so insomma entusiasma un po di più poi c'è un capo terzo c'è l'ultima parte di questo manuale che parla della genitura della nascita anche quella trattazione è un po lunga quindi non vi ho portato tutto e vi ho portato esclusivamente una parte di questo capo terzo che riguarda il significato delle dodici case che cosa dice cioè dice questo autore che viene realizzata diciamo la carta di nascita chiamiamola così e vengono quindi create le dodici case in ogni casa in ogni cuspide di ogni casa troveremo un certo segno in ogni cuspide della casa celeste avremo i pianeti nei diversi segni che saranno posti quindi in questa carta di nascita e avremo una serie di disposizione quindi sarà in qualche modo letto il tema di nascita attraverso gli aspetti tra pianeti e diversi metodi e poi l'autore propone anche una diciamo una descrizione un po più semplicistica un po più semplice diciamo diretta diciamo così al lettore come una in una forma didascalica del significato anche delle dodici case cioè ci dice che poi queste case celesti a livello di tema di nascita di genitura hanno significato anche su alcune questioni della nostra vita per esempio la prima casa parla della vita il del temperamento della sanità dei costumi dell'ingegno e questa casa dice la prima dell'oroscopo quindi significati che troviamo all'interno delle dodici case cosa sono sono luoghi in cui noi rintracciamo i significatori accidentali delle questioni della nostra vita che ci interessano nella seconda casa troviamo invece le ricchezze le possessioni di acquisto questa casa può chiamarsi luogo anche di inerzia terza casa il successo con i fratelli con le sorelle e parenti in genere nella quarta i genitori le eredità e patrimoni ma anche le successioni nella quinta i figli o i figli i legati le donazioni i piaceri nella sesta i servi i sudditi i domestici e gli animali nella settima il matrimonio e sue qualità i nemici aperti i falsi testimoni gli insidiatori alla vita gli omicidi questa casa appellansi di mala fortuna e gaudio di mar di marte qui c'è ovviamente un errore perché il gaudio di marte è nella casa sesta quindi qui c'è un refuso quindi qui nemici sì nella casa 7 come nemici noti ci sta gaudio di marte credo che proprio sia un errore perché è la sesta il gaudio di marte nell'ottava la morte sue qualità e il timore nella nona la religione e viaggi nella decima il regno la dittatura la magistratura la professione la dignità e la gloria nell'undicesima la lode gli amici e il favore dei ministri e chiamasi gaudio di giove undicesima la gioia il gaudio di giove mi pare di sì la nonna è per il sole sì quindi è in questo caso giusto nella dodicesima le malattie carceri esilio disgrazi supplizi questi sono i significati che l'anoni che questo anonimo dà diciamo su alcune cose potremmo avere delle obiezioni per esempio le malattie lui le associa alla casa 12 non alla casa 6 la casa 6 la associa più alle questioni dei sudditi dei sede cioè dei o meglio dei sottoposti dei appunto servi degli animali il gaudio di marte lo associa alla settima è ovviamente credo un errore di questo maloscritto insomma di questa edizione quindi il gaudio di marte è sicuramente la sesta perché poi per giove il gaudio è giusto insomma queste sono le indicazioni anche qui particolari no perché su alcuni luoghi insomma ci sono possono esserci delle piccole differenze anche rispetto ad altri testi molto più precedenti il seguente il questo che stiamo vedendo a riguardo delle stelle solamente vi cito che questo autore anonimo ci dice che poi all'interno della nascita vengono osservate alcune stelle vengono osservate meglio le stelle lui ne elenca in particolare alcune quale elenca elenca arturo che dice è una stella che dà integrità nei costumi la voglia di regnare segnala spica della verde spiga della vergine che dà suavità dei costumi gravi e gravità con se con serio e se gravità con serio e se con saturno produce nature aspre e gelose se poi con marte nature servili cioè ci dà spica che sicuramente è una stella che ci dà severità nel pensiero anche quindi una certa o meglio più che severità una certa elevazione diciamo così intellettuale ma ci dice che se è associata a saturno e a marte ci può dare allora delle cose aspre delle cose che creano cioè dei temperamenti di che creano gelosia o addirittura se spica è associata a marte delle nature servili poi cita il cuore dello scorpione che ci dice da soggetti magnanimi ma temerari se è con mercurio o in aspetto però a marte può dare i crudeli gli assassini i serial killer i persecutori e se con per esempio è con mercurio fa l'esempio cuore dello scorpione unita cioè mercurio unito al cuore dello scorpione in terza casa può fare i fratricidi e se con venere può fare invece ottimi musici anche i poeti poi dice così con altre stelle però in particolare su questa sezione lui cita solo queste tre stelle cioè arturo spica e cuore dello scorpione quindi in particolare queste tre luci e alla fine c'è la parte finale dell'autore che ovviamente fa una critica si osserva che per lo più i nati gemelli sono tra di loro di diverso temperamento e per conseguenza di diversa inclinazione ciò che anche cicerone ha insomma detto riguardo proprio alla nascita dei gemelli allora senza ancora qui vi leggo vi vado a dire quello che ci vuole dire l'autore alla fine di questo trattato dove praticamente l'autore a che cosa ha fatto probabilmente ha preso diversi testi ha riportato in queste pagine le varie nature le varie analogie prese da testi precedenti e quindi ha detto queste sono le analogie che vengono date però vi dico alla parte alla parte penale di questo manoscritto che insomma quest'arte non è così chiara non è così sicura non è così scientifica e quindi comincia a formulare delle critiche intanto la critica che questo anonimo fa l'ho trovata in altri testi del 1700 metà del fine del 1700 dove quasi come se tutti si sono messi d'accordo in quel periodo la ricorrenza che viene fatta la critica ricorrente in quel periodo che viene fatta è la stessa cioè vengono rievocati i gemelli e dicono quando nascono i gemelli le due persone è noto che avranno che è cioè oggettivamente si riscontra che queste due persone avranno nature estremamente diverse e questa cosa è in effetti vera ci sono delle spiegazioni su teorie però cioè non sono delle spiegazioni giustamente razionali cioè per logica due gemelli nati nello stesso istante se le nascite avvengono qualche minuto una dopo l'altra ci si immaginerebbe diciamo una vita abbastanza simile se non identica o molto o comunque che ha delle nature diciamo così sovrapponibili poi una stessa natura per carità possiamo viverla in due ambiti diversi però dovremmo avere insomma uno stesso comune denominatore certe inclinazioni certe modalità del temperamento del carattere eccetera eccetera invece si riscontrano enormi differenze a meno che una differenza a volte ci possono essere delle nascite di gemelli dove uno nasce in una certa ora l'altro nasce dopo molto dopo un'ora ci possono essere anche delle complicazioni quindi dove poi il secondo gemello nasce dopo un po dopo anche un'ora già dopo un'ora insomma la natura di una carta di nascita cambia e come e molto drasticamente però giustamente l'obiezione che fa non è così illogica ed esistono delle teorie che spiegano il perché possiamo avere nascite di due gemelli che sono nati a qualche minuto di differenza dove c'è una dove ci sono due vite totalmente diverse le teorie sono teorie però c'è la teoria della compensazione della dualità cioè addirittura ho letto in testi in questo caso moderni di astrologi che ritengono che il primo gemello è alla carta così com'è e all'altro bisognerebbe vedere diciamo la carta opposta alla nascita cioè teorie che in qualche modo trascendono il dato matematico di una nascita il dato astronomico di una nascita il problema c'è e c'è ancora oggi anche in ambito moderno spesso questo è un argomento di critica altro argomento di critica che viene fatto da questo autore ripeto da moltissimi altri autori di fine 1700 è che questo autore dice che tolomeo in realtà non indicherebbe che la data che dobbiamo analizzare nel tema di nascita è la data del parto ma è la data del concepimento è vero nella tetra biblos c'è questa indicazione dove tolomeo esplicitamente dice questa cosa dove sicuramente la data più genuina è quella del concepimento cioè il momento in cui avviene il miracolo della vita quindi l'inizio proprio della fecondazione quindi il concepimento è il momento diciamo più genuino della nascita di un individuo e quel momento in effetti viene riportato dalla tetra biblos e questi autori di fine 1700 puntano il dito su questa cosa cioè dicendo che in realtà dovremmo semmai verificare eventuale potenzialità dell'astrologia partendo dalla data del concepimento e ovviamente questi autori dicono ma avere l'orario del concepimento non è cioè è impossibile stabilirlo ecco è raro abbiamo casi a proprio a meno che la coppia che si unisce non è prevenuta cioè dice voglio studiare la nascita di mio figlio con il tema di concepimento quindi mentre insomma si fa l'amore segniamo proprio il momento x in cui avviene appunto il momento clou del rapporto ma una cosa del genere non esiste io almeno dai vari testi dalle varie cose dalle varie dai vari testi che ho affrontato nel testo non ho mai trovato dei temi di concepimento con orari certo dove si stabilisce che l'orario è certo no esistono poi delle tecniche semmai per ricavare l'orario del concepimento ma è una tecnica che quindi propone una opzione che non è detto sia assolutamente certa e quindi questi fanno giustamente la critica su questo fatto tolomeo dice che la data più giusta è quella del concepimento è vero che lo dice però è anche vero che nella tetra biblos lo stesso tolomeo dice subito dopo questa cosa che tuttavia è lo stesso tolomeo che insomma non era stupido già sapeva che avere l'orario del concepimento è una cosa difficile averla e quindi aggiunge che comunque in assenza dell'orario di concepimento sicuramente l'orario del parto è un'alternativa più che logica da utilizzare e quella data rappresenterà proprio gli eventi diciamo che accadranno alla persona dal momento in cui esce fuori diciamo dal grembo materno e nell'atto diciamo della del venire diciamo così alla luce al mondo quindi non è vero che tolomeo indica che la data che dobbiamo considerare per il tema di nascita è la data del concepimento dice che nell'eventualità in cui uno avesse questa data ok prendiamo quella che è più genuina ma in assenza la data del parto può andare bene e questa è una cosa insomma che ci dice la stessa tetra biblos e questi autori criticano quindi la parte la parte diciamo interpretativa dell'astrologia legate in particolare alla nascita quindi non tanto all'astrologia del meteo del clima la iatro matematica anche è stata molto tollerata poi ricordiamoci ci troviamo insomma a fine 1700 è un periodo insomma dove queste materie sono sotto la lente di una forte critica ma questo autore cioè critica anche l'astrologia attraverso anche degli assunti religiosi quindi è probabilmente un anonimo che ha anche una simpatia per il clero per la chiesa ha una cultura cristiana cattolica un certo tipo di religiosità quindi non mi dice tutto tranne che sia un uno scienziato questo anonimo di fine 1700 ma mi fa pensare probabilmente a un appassionato una persona curiosa ad un scrittore quello che potremmo oggi chiamare saggista appunto che propone un argomento lo affronta e fa una sua analisi un suo commento rispetto all'argomento che ha trattato e proprio per insomma per strapparci un sorriso il testo viene concluso con una imprimatur cioè con approvazione che viene data dai fratelli dai frati minori osservanti di san tommaso quindi abbiamo un ordine religioso in questo caso di un certo filippo da sori che ha approvato la pubblicazione di questo manoscritto perché ci troviamo sì in epoca di illuminismo ma ancora siamo nella parte proprio sta per concludersi ma ancora certi libri non possono essere non possono essere pubblicati o editati non possono essere divulgati serve l'approvazione siamo proprio agli sgoccioli perché siamo insomma verso la fine del 1700 quindi mancano pochi anni e l'inquisizione sarà abolita quindi è uno forse dei pochi trattatelli di quell'epoca che riceve il timbro di approvazione alla pubblicazione di questo libro questo frate scrive ho letto per commissione degli inquisatore e vabbè l'opera intitolata e c'è il titolo di questa opera ne avendo trovato alcuna cosa contro la fede i buoni costumi giudico che passa a darsi alle stampe in fede e quindi c'è poi la data in cui viene data diciamo così l'approvazione vedete siamo proprio nel 1783 quindi siamo anche prossimi alla fine anche della attività anche della inquisizione bene io vi ho portato in questo approfondimento insomma in modo ovviamente leggero questo breve manuale questo trattatello per incuriosirci su questi argomenti ovviamente di un manoscritto che non lo definirei neanche un trattato di astrologia ma più un opuscolo ecco di informazioni di qualcuna persona che ha voluto appunto scrivere alcune informazioni alcune analogie astrologiche farci una riflessione finale rispetto alla diciamo alla ragionevolezza diciamo così del metodo astrologico quindi vi mi auguro che questo breve insomma e umile approfondimento vi possa aver incuriosito soddisfatto se volete lasciate un like un pollice in su un commento se desiderate iscrivetevi al canale così riceverete anche le prossime notifiche per futuri approfondimenti e vi ricordo che nella descrizione a questo video trovate poi il link per scaricare le slide dove troverete anche il link che vi farà accedere diciamo così al manoscritto online cioè che è consultabile scaricabile online questo manoscritto che vi ho portato di questo anonimo bene vi ringrazio per l'attenzione ci rivedremo con altri approfondimenti e con altri argomenti prossimamente un abbraccio a tutti voi da franz grazie a tutti